Esplorando un secondo box dell'History Pack 1 di Flesh and Blood, riusciremo a replicare il risultato del video della settimana scorsa? Quali saranno le carte più rappresentative che potranno tornare utili durante un torneo formato Blitz o Classic Constructed? E troveremo altri elementi che faranno parte della Top 5 secondo TCG Player? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dato che, come già detto nell'unboxing di settimana scorsa, non si poteva creare una statistica certa con un solo box dell'History Pack 1 di Flesh and Blood, allora mi sono detto, perché non prenderne un altro. Ed è così che, quest'oggi, vedremo se sulla falsa riga del primo anche questo secondo articolo rispetterà le aspettative regalandomi un guadagno utile a reinvestire la cifra maturata così da permettermi di acquistare un terzo box, un quarto e così via mantenendomi sempre sulla soglia dell'incasso. Prima di iniziare, se volete acquistare i prodotti del vostro gioco di carte preferito o gli accessori che renderanno unica la vostra esperienza ludica, vi consiglio di visitare Fantasia Store, dove troverete un catalogo fornitissimo di prodotti pronti a soddisfare ogni vostra singola richiesta. In descrizione troverete il mio referral link che potrete utilizzare per i vostri acquisti. In più, per ogni acquisto che farete potrete beneficiare anche di un ulteriore sconto del 5% su ogni carrello ogni volta che vorrete inserendo il codice CROGIOLO5. Utilizzando il referral link aiuterete anche il canale a portare sempre nuovi contenuti innovativi che tratteranno argomenti riguardanti i vari GCC e se effettuerete l'ordine entro mezzogiorno la consegna sarà a casa vostra in 24-48 ore. Cosa state aspettando? Se cercate i migliori articoli, Fantasia Store sarà la risposta. In più, volevo invitarvi ad iscrivervi al canale dato che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo ma non avete ancora cliccato sul pulsante iscriviti. Pensate che se tutti voi lo faceste ora potremmo raggiungere oltre i 10.000 utenti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Datemi una mano a far crescere la community, basta un singolo clic. Ultimo ma non per importanza, volevo cogliere l'occasione per augurare un buon compleanno a Lorenzo che la scorsa settimana ha compiuto gli anni. Ed ora scopriamo assieme cosa conterrà questo secondo box dell'History Pack 1 firmato Flesh and Blood. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! In questo video si prenderanno in esame due prezzi diversi, quello in preordine e quello esposto al pubblico, così da avere un quadro più generale e dettagliato sul risultato finale. Grazie per la visione! 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 Da come avete visto questa volta non è che sia andata poi così bene! Non sotto il lato investimento per lo meno! infatti il valore di questo box sommando tutte le carte con un costo pari o superiore ad un euro ha generato un ammontare di 81 euro e 47 centesimi originando una perdita di 13 euro e 53 centesimi se il box fosse stato acquistato in preordine e di 57 euro e 53 centesimi se comprato con prezzo disponibile al pubblico mentre sotto il lato collezionistico e di gioco abbiamo trovato command and conquer che rientra nella top 5 stilata da tcg player quindi sotto questo punto non posso di certo lamentarmi quindi come volevasi dimostrare non sempre acquistando un box si riuscirà a coprire la spesa con il valore delle singole carte al suo interno e ciò è un bene ma come arconte è un bene sì perché se non fosse così si creerebbero una serie di eventi che spingerebbero intere frotte di investitori a comprare box su box uccidendo di fatti l'intero ecosistema che vede mercato secondario e collezionismo farne parte quindi va bene che sia andata così lss ha fatto bene i compiti a casa e ha reso il suo prodotto conforme ad ogni altro articolo in vendita di franchising diversi e a tal proposito molto presto arriverà sul canale anche lui concludendo l'history pack 1 risulta di certo essere un prodotto validissimo per tutti quei nuovi giocatori che vanno alla ricerca di carte fondamentali per il proprio eroe e per quanto io ne possa avere memoria solamente magic the gathering se non sbaglio ha fatto una cosa simile in passato quindi complimenti ancora alla casa neozelandese per questo articolo e voi avete trovato qualcosa di utile per il vostro campione in questo set e se invece lo avete acquistato a scopo di profitto come vi siete trovati come sempre fatemelo sapere nei commenti mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei tcg vi ringrazio per essere stati in mia compagnia noi ci vediamo al prossimo video